Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi siamo qui con l'argomento che pregente in tantissimi mi avete chiesto Rino Gattuso Allora ragazzi, prima di questo volevo dire che Molti su Instagram veramente mi hanno detto della questione di Kulibali Del razzismo Io ragazzi ho detto un piccolo post sulla community Perché appunto me l'hanno attivata Quindi andate a vedere quello che penso io Se non l'avete ancora fatto Comunque non ci farò un video sopra sulla questione di Inter-Napoli Sugli ululati a Kulibali Non ci farò un video sopra Oggi siamo qui per parlare di Rino Gattuso Come tutti voi sapete Gattuso è in forte discussione Perché appunto mancano i risultati Il Milan ultimamente sta facendo cagare Non siamo più quarti Bensì quinti E la Lazio ha allungato su di noi E diciamo ragazzi che abbiamo pareggiato pure col Frosinone Non ho voluto fare le pagele perché ultimamente non le sto facendo Le pagele perché non è un argomento Non è un argomento che mi rispecchia secondo me E niente ragazzi Allora molti dicono che Gattuso resterà E molti dicono che non resterà Io vi dico il mio punto di vista Allora ragazzi Gattuso anche secondo me Per me anche se dovesse vincere Tipo per esempio 4-3-0 contro la spalla Dovesse convincere Secondo me Gattuso verrà esonerato comunque A prescindere perché? Perché ragazzi La società Fino adesso non ha ancora parlato no? Però Ha prende questa sosta di 20 giorni E deve assolutamente far qualcosa Perché non può rischiare così tanto Perché questi 20 giorni di sosta Sono talmente utili Per prendersi degli schemi Il nuovo allenatore Per rendersi conto di come è fatta questa nuova scuola Perché ragazzi Poi prendere un allenatore Quando hai una partita Dopo 3 giorni che hai esonerato Gattuso Secondo me non servirebbe a un cazzo Secondo me l'allenatore Deve venire prima Di organizzare gli schemi che deve fare Secondo me quindi Gattuso a prescindere Se vincerà 3-4-5-6-0 contro la spalla Secondo me Gattuso verrà esonerato Mi dispiace dirlo ragazzi Ma Gattuso ha fallito come allenatore L'anno scorso Diciamo che era andato abbastanza bene Stavamo praticamente facendo una remuntata L'anno scorso Quest'anno siamo partiti così così Non stavamo neanche noi come stavamo Stavamo lì al quarto posto Adesso siamo precipitati Pareggendo col Bologna Pareggendo col Torino Pareggendo col Frosinone Uscendo dall'Europa League Secondo me ragazzi Qui è veramente Caduto l'apocalipto Perché dopo tutte queste cose negative Un allenatore non può rimanere Secondo me fino a fine stagione I sostituti sono In teoria Tre I nomi più blasonati Sono Ben Gare Ex Arsenal Colui che vorrei Se dovesse andarsi Nivea Gattuso Altrimenti dovrebbe venire O Donadoni Donadoni Ex Bologna Lo sappiamo tutti Che è Donadoni O Guidolin Commentatore di Dazon Non lo riesco a sopportare Veramente Io Guidolin Cioè Sulla panchina di Milan Guidolin Non lo riesco a vedere Guidolin E Donadoni Non li riuscirò mai a vedere Forse è più probabile L'arrivo di Ben Gare Se dovesse appunto Essere esonerato Gattuso Perché è una mia idea Che verrà esonerato Anche in caso di vittoria Contro la Spala È una mia idea Non sto dicendo niente a nessuno Penso che Il più Facile che potrebbe arrivare Appunto è Ben Gare Perché? Perché c'è Gazzidis Gazzidis l'ha tenuto Per molti anni All'allenatore dell'Arsenal Sono stati insieme all'Arsenal Gazzidis l'ha mantenuto Il posto allenatore A Ben Gare Molte volte Anche quando rischiava L'esonero E secondo me ragazzi Se dovesse essere esonerato Gattuso Verrà appunto Chiamato In causa Ben Gare Niente ragazzi Mi dispiace dirlo Ma per me L'era di Gattuso È finita qui Penso che sarà La sua ultima partita Secondo me Perché poi potrebbe essere E ne so che rimarrà Ma per me Ragazzi Gattuso Ha deluso A prescindere cosa farà Questa partita contro la Spala A parte che domani Contro la Spala Dobbiamo solamente vincere Perché se non vinciamo domani Con la Spala È veramente Gattuso Non è che Lo devono esonerare Si deve dimettere lui In conferenza stampa Se domani non riusciamo A battere la Spala Comunque Fatemi sapere la sua questione In commenti Io riesco a un bel like Su il canale E come sempre Forza Milo Bella Ciao Ciao